Io ho chiamato FanoTV perché abbiamo visto che oggi abbiamo portato i bambini in piscina come tutti i mercoledì e i venerdì e ci siamo accorti che praticamente manca di tutto, mancano le sedi dove potersi cambiare le scarpe, mancano i foni per potersi asciugare i capelli, mancano la metà delle panchine all'interno degli spogliatoi e spero almeno che ci sia l'acqua calda per potersi fare la doccia dopo la piscina. E questa è una cosa altamente scandalosa perché noi abbiamo pagato, abbiamo pagato un servizio, abbiamo pagato una piscina funzionale e questa è una vergogna per il comune prima di tutto e poi anche per le persone che hanno preso in gestione la cosa. Per noi genitori non sappiamo più cosa dobbiamo fare, abbiamo chiesto informazioni, ci hanno risposto soltanto noi purtroppo non ci entriamo più niente, la vecchia società non partecipa più ai bandi quindi non gli interessa poter mantenere le sue cose all'interno della piscina e aspettate le nostre chiamate. Quindi noi dobbiamo recuperare dei corsi, dobbiamo aspettare che qualcuno gli dia l'input e non si sa quando arriva, può arrivare fra una settimana come fra un mese e quindi noi siamo tutti in balia di quello che deciderà il comune di fare.